Pollice verso della Wilmolise. La legge sul taglio delle liste d'attesa attacca la segretaria generale Tecla Boccardo e il coronamento di decenni di proclami. Se si continua a inseguire la domanda senza soluzioni strutturali, come ad esempio in Regione una rete integrata tra pubblico e privato, a suo parere il problema non si risolverà. Non solo non prevede risorse sufficienti, il ministro Schillaci ha parlato di 500 milioni di euro che non si sa neanche a che cosa potranno servire prima. Non si assume nuovo personale, si cerca di risolvere il problema rincorrendo la domanda. Si fa lo stesso errore da 20 anni. Sono 20 anni che si corre dietro l'abbattimento, la riduzione delle liste d'attesa, ma non si è mai risolto il problema. La cosa principale però è che non c'è una riorganizzazione strutturale. dare per un periodo la possibilità di poter fare visite o diagnostica il sabato e la domenica solo per un periodo, riduce soltanto i tempi in questo momento, ma il problema non lo risolve. Anzi per il Molise sarà ancora più grave perché la popolazione anziana è in forte aumento e quindi è una somma algebrica, insomma automaticamente aumenterà la necessità di avere prestazioni sanitarie. Poi la leader della UIL consegna ai nostri microfoni la testimonianza di una pesante esperienza personale che sta vivendo. Serve offrire una sanità di qualità che purtroppo oggi non c'è. Purtroppo neanche nella sanità pubblica vediamo queste grandi eccellenze. Non è un robot o l'annuncio sul giornale che cambia le cose perché le persone quando si interfacciano con il sistema sanitario si scontrano con una realtà completamente diversa da quella che è scritta. La teoria è lontana da quello che realmente accade negli ospedali e negli ospedali davvero tanta gente purtroppo si sente abbandonata. Io in questo momento sento e vivo anche delle esperienze che sono totalmente negative. Grazie a tutti.